Poi come sono guarita mi hanno dato ordine di andare al comando di brigata, dal comando di brigata mi hanno detto adesso spostiamo tutte le donne e formiamo una formazione di donne che deve con il compito, lo chiamavano ufficio di formazione, cioè servizio di formazione, con il compito di mantenere il collegamento con la brigata e il collegamento fuo, cioè il collegamento di tutta la brigata, il collegamento con le altre formazioni, il collegamento fuori della brigata e anche il servizio di vigilanza, cioè informazioni eccetera eccetera. E io sono andata a vetto, sono andata a vetto e ho aspettato che arrivassero tutte le altre partigiane. Allora viene giù il commissario e mi dice Laila ti senti di prendere la responsabilità del gruppo? Tu sarai il comandante delle staffette, la responsabile del gruppo delle staffette che operano in questa formazione. Io dico di sì, ho detto di sì e abbiamo cominciato a operare con tutto il lavoro, però il lavoro era talmente grande che alle volte non riuscivamo nemmeno a dormire, capisci? Ecco, perché non solo facevamo tutto questo lavoro di collegamento, ma facevamo anche il lavoro di battistrada, di staffette, quanto le formazioni andavano in determinati posti, capisci? Ecco, ad esempio quando hanno fatto saltare il ponte della Ceresola, che è a tre o quattro chilometri da Ciano, mi hanno chiesto di fare la staffetta alla formazione. Erano tre squadre di tre distaccamenti comandati da Gianda, quell'ufficiale che ti ho detto che conoscevo, il quale ha detto Laila tu vai davanti, allora anche lì io non ero vestito in borghese, però portavo, io quando mi spostavo ero sempre armata. A secondo dei posti dove andavo, se mi spostavo di notte, tenevo la rivoltella che poteva anche ammazzare qualche d'uno. Se mi spostavo in zone pericolose, avevo una piccola rivoltella, una beretta, una 6 e qualche cosa, che adesso non mi ricordo bene, il calibro, perché era molto facilmente, insomma, riuscivo a nasconderla. E Gian mi vede la rivoltella e dice, ma Laila, dico, guarda, ci mettiamo d'accordo, io vado davanti, ecco, poi torno indietro, dico, se non ho voglia di fare la strada, vi faccio un fischio che vuol dire che la strada è libera, no? Dico, però, putt'acaso, se io mi trovo, che vedo una formazione, se non riesco a tornare indietro, perché può darsi anche che mi bloccano, no? Se non riesco a tornare indietro o darvi voce del pericolo, no? Io, guarda Gian, che a costo di piantarmi io la palottola nella pancia, perché la rivoltella la tenevo nascosta qui, no? Dico, io faccio sparare la rivoltella, perché loro non la vedono. Come l'ho messa, dico, almeno vi do il... stai attento, perché il rumore è quello che ho, ma la porto solo per questo. Lui, ma sei matta? No, non sono matta. Dico, ma ti rendi conto che io ho la responsabilità di tre squadre? Cioè, vedi, ti dico questo per dirti che eravamo responsabili del nostro lavoro, cioè sentivamo la responsabilità del nostro compito. E se c'era anche pericolo, la ragazza non era una cosa che facevo solo io, cioè le ragazze che avevano questa responsabilità andavano anche nel pericolo. E abbiamo continuato il lavoro così, no? Abbiamo sempre continuato... C'è stato un momento che eravamo addirittura una trentina. Poi ci divisero, una parte faceva il lavoro politico di collegamento con la popolazione per avere l'aiuto della popolazione. Noi continuiamo a fare il nostro lavoro, collegamenti, eccetera. Arriviamo il 25 aprile, sono il comando di brigata, il comando di brigata mi dicono prepara la formazione per rientrare. Io aspettavo con ansia, cioè tutti quanti noi, era nove mesi ormai che ero in montagna, lontano dalla famiglia. C'era una di un ristorante di vetto che gli avevo insegnato ad andare a casa mia, per cui il collegamento... Ecco lei una volta alla settimana veniva a fare la spesareggio, loro mi parlava della mia famiglia, eccetera, e portava le mie notizie. Comunque desideravamo. D'altra parte ero all'estremo della forza fisica. Ecco, guardate che il modo come vivavamo, la mancanza di alimentazione sufficiente, la mancanza di vitamine, no? Prima di partire dovevo scaldare le gambe come i cavalli quando dovevo fare la corsa, perché come mi alzavo avevo un mal di gambe tremendo. Poi mi era venuta tutta un'infiammazione, cioè le gengive tutte infiammate che calavano e siccome non avevo niente, il medico ci aveva insegnato a mettere qualche milligrammo di verde rame nell'acqua e poi disinfettarci con quella alla bocca, per dirvi quella che era la nostra condizione. Poi venne su un studente di medicina che portò su fece ad alcune di noi, a me non le fece perché era un momento che non poteva farmele, delle punture di vitamina, che le povere ragazze che hanno avuto quelle punture urlavano come le pazze dal male, gliele facevano nella schiena. Questo per dirvi che era la nostra condizione, perciò sentivamo il bisogno di tornare a casa. Quando il comando di brigata mi ha detto questo, erano lì a Gottano, io da Gottano mi sono messa a sedere su un sasso fuori Gottano e vedevo tutte le montagne, i boschi, eccetera, mi è ritornato alla mente, cioè hai rivissuto tutto il periodo della guerra partigiana, i boschi e mi è venuta una grande tristezza, non perché lasciavo quel posto, ma perché avevo lasciato tanti morti.